Oggi si svolge a Gorizia il Pride FUG o Gay Pride che dir si voglia. Nessuno, come noto, ha assolutamente impedito lo svolgimento della manifestazione. Personalmente, insieme alla mia giunta, unanimemente, non abbiamo concesso semplicemente il patrocinio a questo evento, ma abbiamo anche spiegato le ragioni. Abbiamo ribadito il diritto assoluto di amare chiunque, chiunque al di là del sesso. Abbiamo ribadito la condanna a ogni forma di violenza, a ogni forma di discriminazione, a ogni forma di intolleranza. Ma condanniamo anche l'uso strumentale che viene fatto di questo argomento. Infatti lo si usa, ahi noi, per sostenere richieste che sono facilmente scaricabili nel manifesto del Pride FUG. E quali sono le richieste del Pride FUG o Gay Pride? La chiusura dei CPR, cioè quelle strutture, ce n'è uno anche a Gradisca di Sonzo, quelle strutture che ospitano gli immigrati che hanno violato la legge. Ma cosa c'entra questo con il Gay Pride? A mio avviso, a nostro avviso, della nostra giunta, della nostra maggioranza, invece, quegli immigrati che hanno violato la legge, è giusto che rimangano in una struttura protetta. Il Pride chiede la rimozione dei crocefissi dagli uffici pubblici e dalle scuole. Ma potremmo, invece, noi sostenere la necessità che rimangano negli uffici pubblici e nelle scuole laddove ci sono perché rappresentano la nostra storia, rappresentano la nostra cultura, rappresentano le nostre radici. Il Pride FUG chiede l'approvazione immediata della proposta di legge che porta il nome dell'onorevole Zan, che peraltro divide anche una parte importante della sinistra. Ebbene, gli organizzatori e le forze politiche che organizzano, appunto, sono vicini a questo evento, predicano la tolleranza, ma quella tolleranza ha senso unico. Predicano la tolleranza, ma applicano l'intolleranza. Sono da mesi ormai che ricevo offese e insulti di ogni natura. E questa è la tolleranza. Il diritto di amare chi che sia non lo si tutela con pagliacciate, non lo si tutela con la violenza, non lo si tutela con l'intolleranza di coloro che la pensano in modo diverso, non lo si tutela con provocazioni e con eccessi.